Buongiorno da FTA Online e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'aggiornamento sull'andamento dei mercati finanziari. Questa mattina le principali borse europee hanno aperto deboli. Se guardiamo a quello che sta succedendo a Parigi e a Francoforte vediamo che gli indici cedono circa lo 0,3%. Milano riesce a fare meglio e si muove attorno alla parità. Per il momento comunque è tutto ancora da vedere e da capire quale potrà essere lo sviluppo della giornata. Per quello che riguarda la chiusura di ieri a Wall Street da segnalare il rialzo di mezzo punto percentuale circa per l'S&P 500, mentre il Nasdaq ha chiuso a più 0,84% e il Dow Johnson Industrial a più 0,47%. I mercati asiatici questa mattina sono a pazzi piuttosto tranquilli dopo la grande volatilità degli ultimi giorni. Guardando più nello specifico a Piazza Affari da segnalare il ribasso di Telecom Italia che sta perdendo due punti percentuali. Dal punto di vista grafico andiamo ad approfondire lo scenario e vediamo che il titolo ha provato a forzare la resistenza posizionata tra 1,14 e 1,15 nelle ultime settimane. Ci sono stati vari tentativi, quello del 25 agosto, quello del 27 agosto e poi quello più recente, l'ultima settimana di due giorni fa, che però non ha portato nessun frutto, meglio ha visto i prezzi respinti dalla resistenza. Oggi con il calo del 2% le quotazioni sono tornate nei dintorni di quota 1,09 e mezzo, quindi siamo scesi al di sotto di 1,10, più o meno la parte centrale di questo range di oscillazione che ha avuto inizio con il calo del 24 agosto che aveva portato le quotazioni fino a 1,04 e 10. Il rischio è che se la settimana dovesse chiudere nella parte inferiore di questo intervallo, quindi al di sotto di 1,09, il rischio appunto è quello di rivedere proprio i citati minimi, area 1,05. In quel caso però salirebbero anche le possibilità che tutta questa fase laterale possa essere soltanto una temporanea pausa di consolidamento del precedente trend ribassista, per cui, quindi se viene da questa discesa, il rischio che questo movimento possa preludere alla ripresa di questa tendenza si farebbe alto nel caso in cui i prezzi scendessero proprio in chiusura di settimana in area 1, cioè si avvicinassero a quota 1,05. Sotto 1,05 spazio per un ulteriore affondo attorno, inizialmente verso quota 1, ma poi con buone possibilità di scendere sotto 0,95. In quel caso sarebbe comunque il supporto psicologico in area 1 a doversi opporrere al ribasso del titolo. Certo, se i prezzi dovessero scendere nuovamente sotto quota 1, cosa che non avviene praticamente da metà febbraio, anche il quadro grafico di medio periodo subirebbe un deciso peggioramento e bisognerebbe fare molta attenzione perché il titolo potrebbe proseguire la propria corsa e non accontentarsi soltanto del test a 0,95. Verso l'alto invece sarà necessario il superamento di area 1,15 almeno per allentare le recenti tensioni e cercare di avvicinare quelli che sono stati i massimi di questa estate a 1,28. Per questa mattina è tutto, un saluto da Alessandro Chini di Financial Trend Analysis, alla prossima settimana. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti.